Il sostegno a distanza è una forma di cooperazione allo sviluppo nata non tantissimo anno fa che presenta tre caratteristiche. Il primo è quello di non essere un meccanismo di tipo assistenzialistico perché si sostengono a distanza nei paesi cosiddetti in via di sviluppo quelle fasce di popolazione, soprattutto bambini e ragazzi, per investire sul loro capitale umano. Quindi non è la elemosina di antica memoria. La seconda ragione, o caratteristica, che parla a favore del sostegno a distanza è che questo non provoca lo sradicamento. E questo è un punto un po' delicato. Se io adotto qui un bambino che è là, lo sradico dal suo contesto, ad esempio dai suoi genitori o dai parenti o dalla cerchia di familiari e così via. Quindi provoco sempre, in un modo o nell'altro, un qualche trauma. È inutile negarlo perché i fatti di cui abbiamo conoscenza ce lo documentano. La terza caratteristica è che il sostegno a distanza tende ad evitare quello che ormai si chiama il brain drain, cioè la fuga dei cervelli. Che fa tanto è il Comitato europeo per la formazione e l'agricoltura. Però il nostro sottotitolo è il seme della solidarietà. Allora, parlando di sostegno a distanza, che si rivolge specialmente ai bambini o comunque a gruppi più vulnerabili, e qui parliamo proprio di semi. E parliamo proprio di un tipo di sostegno che la persona normale, nella sua normalità, può fare per dare un futuro di cambiamento. E quindi sono proprio i semi di futuro che cerchiamo di coltivare con il sostegno a distanza. Agiamo come CEFA sempre in sinergia con dei progetti di sviluppo. Perché un po' la nostra idea è che i bambini vadano sostenuti all'interno di una comunità che sta camminando, che sta cambiando. Quindi questo bambino si ritroverà, giovane o adulto, in una società che sta già cambiando. Quindi non creiamo una situazione né di dipendenza e né una situazione in cui poi alla fine del sostegno tutto è come prima.